Vai! Ciao, io sono Costantino Bongiorno, faccio parte, lavoro per Arduino e mi sto occupando in questo periodo di questo progetto speciale che è la Maker Faire Roma. Durante questa giornata ci sono un po' di maker presenti che faranno un po' di preview di quello che potrà essere la Maker Faire, ovvero il maker che esporrà nei propri progetti e quello che stanno facendo. Ricordiamo, la Maker Faire è a ottobre, la Maker Faire sarà qui al Palazzo di Progresso, dove ci troviamo anche oggi, a ottobre a Roma, dal 3 al 6, saranno 4 giorni completamente dedicati ai maker. Che succederà al Roma Maker Faire? Succederanno tante cose, saranno 4 giorni molto intensi di programmazione, inizieremo con una conferenza internazionale che ci farà vedere un po' come sta cambiando il mondo, o come vogliamo che il mondo cambia. Il giorno successivo sarà dedicato ai giovani, ai studenti, a chi da giovane età si vuole avvicinare a queste pratiche. E poi sabato e la domenica, per cuore, ci saranno tutti i maker presenti con i loro. E l'innovation lab di quest'anno è più fare e meno teoria, o sbaglio? Beh, diciamo che tutta la questione del maker pone l'accento proprio su questa cosa qua, e soprattutto sull'utilizzare in maniera indistinguibile software e hardware. Ti sta divertendo? Sì, sì. Ok, grazie mille.